In chiave classifica di sicuro è una partita molto importante, noi dobbiamo cercare di fare in queste ultime giornate i punti che ci permettono di stare nelle prime otto per andare a fare una partita di Coppa Italia importante. Dal punto di vista morale sicuramente dopo la partita che abbiamo disputato con Conegliano ci vuole riprendere un pochettino di vigore su delle situazioni che invece in precedenza le sconfitte con Scandicci e con Busto non ci avevano scalfito più di tanto. Sì, sicuramente dobbiamo lavorare bene sulle nostre situazioni d'attacco, dobbiamo trovare ancora una buona combinazione tra la palleggiatrice e gli attaccanti, la palla giusta per i nostri attaccanti in maniera tale che possano essere serviti nella maniera in cui riescono a scaricare con maggiore facilita tutti i loro colpi, cosa che non sempre ci riesce e non sempre ci riesce costantemente. Nella seconda parte della stagione generalmente si esprimono meglio le squadre che lavorano e lavorano di più. Noi speriamo di essere una di queste che con l'amalgama, con il lavoro, con la fatica e l'umiltà riusciremo a portare a casa nostra dei punti fondamentali per poi accedere ai play-off. Grazie. 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 Grazie.